Si può uscire con un grande sforzo politico, con un impegno diplomatico, in particolare della presidenza di turno del Consiglio europeo e di tutte le istituzioni europee. E poi si può uscire, credo, anche con senso di responsabilità da parte di tutti. Del resto i Paesi che hanno messo un veto all'approvazione del bilancio e del fondo di recovery sono Paesi come la Polonia e l'Ungheria che sono tra i principali beneficiari di entrambi questi strumenti, sia del bilancio comunitario, di cui sono beneficiari netti, e sia di Next Generation EU, di cui sono tra i 5-6 maggiori beneficiari. Per dirlo al pubblico italiano hanno in percentuale un contributo da questo fondo maggiore di quello che avrà l'Italia. Non in termini assoluti, naturalmente, ma in termini percentuali. Quindi è interesse di tutti e io sono fiducioso che questo ritardo, che in sé è veramente una cosa negativa, che si riesca a recuperare con un'intesa nel Consiglio che superi questo ostacolo. Noi per avere volume di fuoco in questa ripresa abbiamo bisogno di andare sui mercati e raccogliere risorse di un debito comune. Per farlo abbiamo bisogno di quelle innovazioni che oggi sono state sottoposte a un veto da parte di due Paesi. Quindi non credo che ci siano modi di risolvere questo problema diversi da quello di trovare un'intesa. Ricordo che prima di varare il Next Generation EU, il livello di differenze nell'ambito dei Paesi europei era molto alto. Lo scetticismo e la preoccupazione, ma non riuscirete a raggiungere un'intesa, era altrettanto alta. E io sono sempre stato fiducioso e sono fiducioso anche adesso. Mi preoccupa il ritardo, ma non mi preoccupa il risultato finale perché penso che si troverà a quest'accordo.